Quella che vediamo qui davanti è la scuola d'Alchimione, la sede di San Francesco, che è stata posta sotto sequestro nel 2008. Da allora la scuola non ha mai riaperto. Il sequestro è arrivato perché lo spiazzale qui davanti era stato costruito con il CIC. Allora è stato inizialmente messo in sicurezza e non era possibile l'accesso, però come vediamo ora è molto semplice accedere perché a un certo punto la rete finisce e chiunque può entrare nello spiazzale, così come stiamo facendo noi ora. E proprio entrando nello spiazzale senza alcuna difficoltà, la prima cosa che notiamo è che di sotto della ghiaia è stato posto una sorta di telo di plastica. Secondo alcune fonti questo telo di plastica è stato utilizzato per coprire il CIC e per fare in modo che non si venisse a contatto con il CIC. Per cui l'unica separazione tra la sostanza e le persone che possono camminarci sopra sarebbe questo telo, essendo la ghiaia e la sabbia poco indicate per attutire l'impatto del CIC.